Una bella prestazione per l'APU Old World West Udine che non solo porta a casa due punti in classifica, ma per Natale regala un po' di serenità all'ambiente e ai suoi tifosi. I primi quattro punti portano la firma di Cousin, poi entra in scena Brisco che segna 9 punti in 8 minuti e guida i bianconeri sul 17 a 9. Ferrara però ha trovato la sua identità e risponde con un parziale di 11 a 0 trascinata da Clives. Udine è in svantaggio al termine del primo quarto ma ecco arrivare la svolta. Tutto parte dalla difesa che concede solo 12 punti. Antonuti suona la carica, Esposito segna 4 punti di fila e Sheryl si sblocca segnandone 7. L'entusiasmo ritrovato e la fiducia che trasmette la squadra vede Udine dominare anche il terzo quarto. 24 a 9 il parziale con due triple di Capitano Antonuti e l'incredibile prova difensiva di Nobile che si toglie anche lo sfizio di segnare una tripla esultando assieme a tutto il Carnera. La PU tocca al più 32 a fine quarto e nei 10 minuti finali Ferrara riduce lo svantaggio ma per Udine è festa per una vittoria che riporta alto il morale. Brisco è l'MVP della partita con 21 punti e nessun errore al tiro. 14 punti per Antonuti, 14 anche per Sheryl. In doppia cifra anche Esposito a quota 11 e Palumbo. Prestazione a 360 gradi per il numero 6 bianconero che termina con 10 punti, 7 rimbalzi, 4 assist e 2 recuperi. 9 i punti per Nobile, 8 per la copia di Lunghi composta da Cusine Pellegrino, chiude a quota 2 Fantoma. Adesso due giorni per festeggiare il Natale e ricaricare le batterie, poi tutti di nuovo in palestra in vista dell'impegno in programma giovedì 29 dicembre quando alle 20.45 Udine affronterà in trasferta a Cantù nella gara valida per l'accesso alle Final Four di Coppa Italia.